Battezzato con il nome del suo relatore, il deputato del PD Alessandro Zanna, il disegno di legge ha come obiettivo il contrasto all'omofobia e alla transfobia. In sostanza il DDL Zanzi potrebbe definire come il decreto mancino, la legge contro il razzismo del 93, applicato all'omofobia. Estende quei passaggi del codice penale che già puniscono discriminazioni e violenze su base razziale, etnica o religiosa, a quelle basate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere. E malgrado le fratture all'interno della maggioranza, nella società civile sono in molti a ritenere necessaria una legge. Io sono contento che si faccia questa legge perché sono anni che se ne parla e ancora siamo a babbo morto, come si dice. Personalmente sono un po' contrario alle leggi perché quando si fanno le leggi è normale, vuol dire che abbiamo un grosso problema. E il problema purtroppo è sociale. Non sono contento che sia una legge che difenda i miei diritti. Però è giusto che si faccia questa legge perché stiamo andando oltre le cose che non dovrebbero neanche sentirsi. Perché forse siamo anche una società un po' malata. Siamo una società malata, siamo una società malata, soprattutto i maschi. Perché non ho mai capito, nella mia vita mi chiedo sempre, perché sono gli uomini che fanno del male e le donne e le donne no. Sono sempre gli uomini. Io non ho mai sentito dire a un gruppo di donne andiamo a menare a un gay. Quello dell'arci gay ostia è in realtà un pensiero assai diffuso, soprattutto visto il fallimento del buonsenso e alla luce dei più recenti fatti di cronaca. Uno fra tutti la storia della giovane malica cacciata di casa dopo aver fatto coming out. Non c'è il buonsenso perché nelle scuole, nelle famiglie manca l'educazione. A scuola non si parla di queste cose. Magari anche quando si va a parlare di educazione sessuale si resta sul classico anatomico. Un pene è fatto così, una vagina è fatta così. Senza poi andare a toccare tutti quei discorsi che riguardano la sessualità in sé per sé. Quindi possiamo parlare di buonsenso quando all'effettivo c'è un lavoro dietro, c'è un lavoro nella società e c'è una consapevolezza. Ma dal momento che questa consapevolezza manca e di sicuro ci vuole un po' per costruirla, questa legge è insomma necessaria. Dopo l'approvazione alla Camera, il disegno di legge Zan è passato in Commissione Giustizia del Senato. Passaggio fondamentale per arrivare poi alla sua discussione in aula e in teoria alla sua approvazione definitiva.